Sindaco Marinelli, oggi qui a Pianella parlerete di tutte le vostre iniziative che avete portato a termine per rendere le vostre scuole più sicure. Abbiamo lavorato tanto per migliorare il più possibile il livello di sicurezza dal punto di vista sismico e non solo e oggi abbiamo ritenuto opportuno di confrontarci col personale scolastico e con la componente dei genitori per fare il punto della situazione. Non ci siamo fermati un attimo e nella ricerca dei finanziamenti che ad oggi tra le varie linee finanziarie che siamo riusciti ad intercettare abbiamo una cifra che si avvicina ai 5 milioni di euro. Siamo riusciti ad esempio sulla scuola dell'infanzia di Pianella Centro Urbano dove partivamo da un dato di vulnerabilità sismica davvero molto basso 0,17 ad ottenere un livello 1 quindi adeguamento sismico e questo è il risultato davvero di grandissima soddisfazione. Un lavoro di 1 milione e 800 mila euro, una riconsegna parziale, i lavori stanno andando avanti per il secondo lotto. Sulla scuola media stiamo ancora lavorando che oltre alla messa in sicurezza sismica prevederà anche un lavoro di efficientamento energetico e termico all'avanguardia. Lavoriamo anche sulla scuola elementare anche qui in due fasi distinte. Abbiamo lavorato un po' a 360 gradi per intervenire ovviamente in maniera più consistente laddove i finanziamenti ce l'hanno concesso e dove c'era più necessità di intervenire perché gli edifici necessitavano appunto di un intervento radicale.